Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono davidissimamente davidi hd qui per voi E oggi siamo qua a giocare su minecraft una custom map, si infatti dato che l'elgato ha avuto problemi ad arrivare e tutto il resto Amazon insomma mi ha fatto cagare questa volta, mi ha fatto schifo diciamo che magari è meglio dire così Oggi siamo qui a giocare una custom map, si perchè mi darò le custom map finchè non arriva Allora, partiamo subito cliccando il pulsante Aspetta, la tua madre per il gioco è stata aggiornata, va bene Ok questa è una cosa a muzzo, comunque hanno fatto a proposito di cose a muzzo la texture più buggata che abbia mai visto No ma veramente era una cosa orribile, poi vi dobbiamo far vedere alcune cose Si è messo il resource pack, dovresti vedere un'armatura buggata, buggatissima direi Protetta da raggi laser, inattraversabili e innocui Quindi va bene, è logico Questo so sbarre Comunque Partiamo avanti, se sei uno youtuber o un semplice player Se sei uno youtuber Youtuber fai un video su youtube, pubblicalo su youtube No, non avevo capito che se sono uno youtuber posso mettere il video su youtube Vabbè Diciamo che questo è un po' idiota Non sei uno youtuber? Godite la mappa, questi cartelli ci sono solo per la simmergia Si perchè devi a forza rispettare la simmergia Start Prendiamo le regole e leggiamole In questa mappa dovrei superare alcuni enigmi Regola Sono nove pagine Sono nove, no 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 ma non tutte Ora vi faccio vedere che questa mappa l'ho già giocata Gioca in peaceful Non cittare L'ha scritto pure male Non rompere blocchi, non piazzare blocchi per nessuna ragione del mondo Ah no questa non l'ho fatta Gioca con il suono disattivato E la musica bassissima Quindi Peaceful Musica bassissima Pacifica va bene Lingua Sì no no lingua Musica e suoni Musica bassissima Quindi mettiamo la 20 Musica e suoni Musica pure Ok continuiamo a leggere Non rompere blocchi Gioca con il suono disattivato La musica bassissima Se non riesce a finire un livello in suoi 50 tentativi Puoi cercare un consiglio alla prossima pagina Non sono tanto difficili E qui ci sono tutti gli spoiler Poi fino alla No per almeno credo Una volta ho giocato una custom map simile Va bene Prendiamo anche Sì questa texture pack è una della più odiosa che abbia mai scaricato Corazza di fe Mettiti Oh questa almeno una Una giusta Una come dire Un'armatura giusta Non baggata Decente Regole E ora Tutto Bene Tutto Poi abbiamo il cibo in scatola degli astronauti Sì bravo Bellissimo Una da texture Tutto più facile ma più difficile di quanto sembri Ok Ok questo è il consiglio dell'esperto Va bene Quindi tutto più facile e più difficile di quanto sembri Che dobbiamo fare Questa dovrebbe essere la prima prova Oppure che ne so Dov'è arrivare qui Che 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 è sta roba Ok spiegami che cosa è Ci sono roba in casa Così Così ad Muzum Facciamoci lo spoiler sai Non ne avrei voluti usare Però scusami Vai avanti Questo è livello 1 Vai avanti Eh sì vai avanti Bene Tu vai avanti Prova Niente Eh vede le parti bianche Ah questi sono scale Sono scale Che schifo è Ma veramente Così non si capiva Scusami sono scale Eh no questa è giusti Era una porta Wow almeno si confonde questa texture Vero Allora saliamo qui so Stiamo giocando a una schifezza Setta lo spawn Ah è un letto Il letto Il letto Soltanto di notte Posso attivare il comando Tutti i blocchi sono uguali Non game mode Solo Yeah Amistad day Sì dopo dobbiamo Day no ma che schifo che ho fatto Mamma mia Fail Fail Sì un grande fail Ok Ora dormiamo E allora mi sembra che sia un pochino Incasinata e stupida Però dai questa texture pack magari serviva per Per qualcosa Allora qui ci sono raggi lasser Se cliccassimo quel pulsante magari qualcosa accade Oh TNT C'era una TNT là Oh mamma mia Ha perso la sala Cos'è la lava Oh è lava Non ti ricordi che è lava quella Che è lava nera qua Ma che schifo Vuoi vedere che questo è vero Sì vuoi vedere che questo è vero È vero C'è del vetro là Il vetro è trasparente L'hanno fatto così Ad Mutsum Ah questa è sabbia rossa Questa è sabbia rossa Sì abbiamo capito Questa è sabbia rossa Questa è ossidiana Vabbè Ok vai bene Settiamo Cos'è Ah c'è da una per la Ender Ha una barca Così c'è l'altro La Ender Barca 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 per la Ender Ok basta TM1 Unlimited Sì perché queste barche sono in versione limitata Questi sono letti Sì dormi E vaffan bagno costoso Time set Night Va bene È molto difficile Guarda Eh sì no no Molto difficile Veramente Sono inibili Impossibili Il primo Solo se giochi con la texture Ti confono Questo è lava Credo Yeah Qui c'è vetro Va bene C'è la solo se giochi con la texture Questo è acqua Se giochi senza questa texture È una mappa facilissimo Guarda che schifo la barca Vabbè il legno logicamente è normale La barca è bianca ma il legno è colorato sì Ok qui dovrebbe esserci una porta Oh trovata Molere chiude Tieni l'aperto Oh Pistoni Un bagno Schifoso O questo c'è Quella era una freccia Abbiamo la pozione della Rigenerazione Quattro minuti Cinque minuti Qui c'è letto Ok vabbè continuare Oh Parkour si dovrebbe arrivare Oh ecco la leva Che so che farà Fa questo sì Parkour No era difficilissimo questo enigma Veramente Se non c'era qua No non l'avevo capito Ora però devo buttare Non c'erano scale Non c'erano scale Aspetta la notte Il nonno altro che l'aspetto Aspetta la notte time set At night Night Ok ora dormiamo Aspetta la notte Ma quanto Sto qui pretende Che noi aspettiamo la notte Aspetta aspetta Dal libro Dal libro un attimo Dal libro Regole Quanti ce n'erano di Questa Ha gli spoiler Quindi i livelli sono sette Questo che livello è Aspetta Vediamo un po' Livello 1 vai avanti Livello 2 controllo dei lati Vabbè era quello dei pulsanti C'era il vero Ricordi Arriva sul fondo E cerca Non mi ricordo Fatti spingere Che diamine Sono sti consigli Guarda Guarda Ma che consigli sono quei Ma veramente Ma tu stai un Non so neanche come descriverti Che consigli sono Poi mi hai dato la spada Che cosa deve affrontare Mob Vabbè poi succede Che guarda la custom map Perché ci dice Ah voglio Aspetta voglio vedere una cosa Perché ho un po' di paura Mettiamo Dopo la rimettiamo Non vi preoccupate La deve escape Che voglio vedere una cosa Veramente Ora se lagga il mondo Magari lagga anche fraps E l'applicazione che uso per registrare Se mi andasse Sta laggando No ragazzi Non vi preoccupate Non vi preoccupate Fa sempre così Quando cambia una texture pack E poi lo dovremmo rifare Quindi Oh ecco infatti Lo sapevo E vabbè E vabbè Vetri È un parkour Guarda Se è mocato Fai schifo Lo so Ma allora aspetta Dobbiamo rimettere la texture Perché se no Ok questa qui l'abbiamo fatta amare Ci scusiamo con il proprietario Sì Ci sono le scale Dove Dove Questa è una po' E le botole Sono tutte botole Ok abbiamo capito Che queste sono tutte botole Eh almeno qualcosa l'hai fatta giusta Questa è una cosa innovativa Ma che schifo Ma che schifo Quanti ha Fa un valore Quasi Vabbè potremmo usare la game mode Ma noi dobbiamo almeno Farlo durare questo episodio Non possiamo fare uno schifo Per uno schifo di custom map Sì ho scelto una custom map schifo Magari avrebbe dovuto sceglierne una migliore Potremmo fare una serie Solo potremmo Delle custom map più brutte Sì ma No questa non è Non è brutta È bella Ma solo se Si giocata con un certo texture Vuoi vedere che era così Esatto Io ma posso fare solo così Ma sto qui Vabbè E ti sei fatto fregare amico mio Anzi Sì Sì Questa qui L'ho fatta Ah no Questa qui non va Non va bene bene Non si è fatto fregare così Tanto almeno Però noi Ora Poi Ora noi lo Freghiamo nuovamente Sì perché Se tu fai una roba Tanto facile Poi noi È ovvio che ti freghiamo Eh questa Sì ok Giusto 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 Giusta Giusto E siamo già arrivati Sì è stato difficilissimo Sai Ti abbiamo Fatto questo Questo schifo Queste sono Casse Per poco Non me le dimenticavo Prendiamoci carrelle Puoi vedere che c'è che ci sono carrelle Cosa cosa Così così cosa No 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 Non si può fare Mamma mia Io non ce ne voglio fare tutti Andiamo Yeah Guarda Mondo super piatto Proprio schifoso Splattellato Con un paio Va bene ragazzi Vediamo un pochino Dove ci porta Queste Erano tutte le strutture No niente Per difendersi dalle pecole Esatto Per difendersi dalle pecole Grazie 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 per aver giocato Ci sarà il capitolo 2 Non lo voglio giocare Con la versione 1.8 I.x Di minecraft 8 infinito 8 C'è il creatore della mappa Eh voglio fare una cosa Adesso abbiamo promesso Di far vedere alcune cose Della texture insomma Perché 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 l'avevamo promesso Intanto No davvero Sembrano di quelle cose Da dove partono Le astronavi No ma veramente Comunque C'è da qui Poi Grazie a me Mode Ora ve la facciamo vedere La texture pack Intanto tutta sta roba Vorrei buttarla Ma non posso Partiamo dalle armature Che sono la cosa più indecente Dell'universo L'armature Vi giuro Adesso vi sembra Vi sembra normale Ma adesso vedete l'indossata Veramente Adesso guardatemi Guardatemi con F5 Eccomi Eccomi Io sono questo robo Sì Sembra che hai Un cubo Di guadzo Tra l'altro ho ancora la rigenerazione Vabbè Casellato Eh sì Guardami guardami Sono un blocco bianco Dove cammina Mamma mia Ma che Ma veramente Vediamo un pochino Guardate qui sono le Le armi Sono le stesse Non dovrebbe essere Accidenti di cambiato Vediamo un po' Partiamo da qui Ah qui c'è il vetro Che veramente Ecco il vetro Posso usare le barriere Che sono blocchi invisibili No Usiamo il vetro Che è meglio Ecco qui guarda Che schifo Pistone appiccicoso Pistone CNT Questa è CNT Distributore Ma questa texture È Malata proprio Non so come definirla Veramente Boom 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 del Chad Mursum Ciao guardate che schifo Se mettessimo questa porta qui No questa qui è giusto E per dire la rapida adesso Che La rapa guardate com'è Già l'alcio Nera Nera schifosa Ma poi sembra veleno Cioè Sembra veleno Veramente Va bene va bene Abbiamo capito No non era solo per mostrarvi La custom map Poi i mob sono gli stessi Cosa c'era di altro schifo Eh vabbè La gilaser Il pannello di vetro bianco Pannello di vetro bianco Due volte vabbè Scalapioli Sì vabbè Te li ricordi Uno dei primi Il primo livello era così Pistoni Pistoni appiccicosi Tutte ste robe schifo Cosa c'era di altro? Sicuramente molte cose Sono bianche Sì vabbè Questo qui Ah poi c'è la costurezza Di maniera cotta Che è una Proteina Che ti sembrava anche Una batteria Appunto Vabbè Qui non si è sprecato Neanche a cambiare Con le altre texture Si cambiava almeno Ok ragazzi Questa era la custom app Con la text Più baggata del mondo E' più sicuro quella cosa Questa era l'inizio Quello dove ti richiedeva Se sei una youtuber E quanti command block ha messo? Questa è un command block No dico quelli là No dietro Ho messo un pochino Non tp Game rule Cap inventa di più 6 aspetta v Ho messo 6 aspetta v Vabbè che se ne prego Spawn point Game rule Clear Difficulty Test Time set Game mode Vabbè No Erano solo Semplici comandi Nentre di che Questo Erano Clear Va bene Che giallo Non ha funzionato Doveva togliermi tutto l'inventario Non ha funzionato Bravo Ben idiota Ci ha dato poi Tutto quel cibo Quel cibo Che non serve Si non lo spara Ah niente Ma neanche il cibo Guarda Di tutto Neanche l'armatura No l'armatura magari se cadevi Ma te ne fregavi Poi L'unica cosa che ci serviva Le barche nemmeno servivano tanto Potevi nuotare Fare a nuoto Il carrello di miniera Potevi evitarteli pure No vabbè No 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 Non potevi Non potevi che c'era quella cosa Che ti bloccava Poi vabbè Tre libri Grazie Regole Tutto Tutto Adesso vediamo il consiglio di tutto Il consiglio di tutto era Tutto è più facile Ma più difficile di quanto sembri Che cacca è questa Ora spiegami No 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 Spiegami che cavolo c'entra Ora che l'abbiamo fatto Che c'entra È saggio Lui È un saggio Un saggio Va bene ragazzi Abbiamo giocato a questo schifo Di custom map Che alla fine L'unica cosa È che ti confondeva Per Per alcun Per la texture Per i blocchi No ti confondeva Per la texture Magari perdevi Una o due parti Solo per quello Ma niente di che C'è la parte del vetro Che era magari La più difficile Ma niente Quindi consigliamo al proprietario Di farsi una visita oculistica E noi E noi Ci vediamo alla prossima Con questa base Schifta Astronautica Astronautica